Ascoltà un'imboscata dietro ogni angolo. Darò un'occhiata veloce. Prendete! Abbiamo il posto di me! Ha una carta da trafinita! Attenzione! Attenzione! Stai entrando in un'aria contaminata. Stai dietro! Sì. Abbandono dell'area contaminata. Abbandono dell'area. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un altro agente sta reclamando i miei fornimenti. Grazie a tutti. Confermato. Stato traditore non più attivo.